Un crossover dinamico, leggero nella linea, interprete di uno stile, quello Infiniti, fatto di particolari, di temi e stilemi creati sul fronte qualità ed emotività. La X è compatta, non passa inosservata, è tagliata come una coupé e questo la rende un po' unica. Il suo interno è lo specchio delle sue linee dove la qualità è percepita appena ci si siede. Tutto è morbido, prezioso e creato a regola d'arte. Poco da dire sulla qualità di questa vettura, non solo nell'apparenza ma anche nella sostanza. Al volante ci si accomoda istintivamente con una seduta piuttosto sportiva e grintosa, sterzo molto forte, per non dire un filo pesante ma in manovra, perché poi sul misto ed in autostrada fa la sua parte. La X si comporta bene nel misto dove le sue dimensioni contenute l'aiutano. Il cambio è veloce, preciso, i sette rapporti sono molto efficaci per avere sempre la marcia giusta. Drive, drive sport e manuale per trovare la vettura che volete fra le mani. Le reazioni del cambio su sei cilindri diesel sono ottime, sempre in tiro se volete grintosa, anche aggressiva ma docile e sinuosa per la maggior parte del tempo. Un mix perfetto che si rifà alle due anime della vettura, crossover e coupé. La versione GT Premium, portabandiera tecnologica della gamma X, propone, come vedete, una serie di accessori di serie particolarmente interessanti, come il Connectivity Plus e alcuni dei più sofisticati sistemi di sicurezza, come l'avviso anticollisione anteriore, il sistema di prevenzione allontanamento corsia di marcia e l'avviso sull'angolo cieco. Di serie, anche il tetto in vetro apribile elettricamente, l'impianto audio, Bose Premium Sound System e ruote da 19 pollici. La crossover la ritroviamo in queste dimensioni, nel comfort, nei nuovi sistemi di infotainment, nelle linee, nella qualità. Troviamo la coupé nel comportamento stradale, nelle prestazioni, la potenza del motore, ma anche negli spazi, dove i posti posteriori sono decisamente sacrificati, mentre il vano bagagli è di dimensioni regolari, ma non pensiate che questa sia una vettura per la famiglia. È perfetta per i single, ottima per la coppia, utile se si ha un figlio piccolo, poi si passa ad altro.